Uno dei motivi per cui in questo Paese si riesce a fatica a instillare un sano garantismo, come sarebbe scritto nella Costituzione, come sarebbe auspicabile in un Paese civile che ciclicamente viene attraversato da moti giustizialisti e dai loro rispettivi movimenti politici, è l'utilizzo strumentale e peloso di un garantismo disfunzionale che viene utilizzato ogni volta dalla politica per normalizzare atteggiamenti e persone che dovrebbero starne alla larga invece della politica e che non solo ricevono solidarietà, ma qui addirittura si ritrovano sull'orlo della beatificazione. È successo qualche giorno fa con Marcello Dell'Utri, che magicamente ora sembra assolto anche dalle condanne precedenti, che qualcuno vorrebbe addirittura promuovere il senatore a vita. Evidentemente essere condannati solo per rapporti con la mafia è un prerequisito per una corsa al Quirinale, qui da noi, ma è risuccesso ieri nell'indagine che riguarda Luca Morisi, lo spin doctor di Salvini e della Lega, caduto precipitissimo e volmente in disgrazia per una storia di droga tutta da chiarire. Ricapitolando da osservatori esterni, Morisi dice che non è successo niente, ma chiede scusa, curioso. Tra l'altro chiede scusa della cosa sbagliata, cioè non ha capito nemmeno in un momento come questo, il perspicace Morisi, che il problema non sta tanto nell'uso di droga, che in fondo Morisi ammette giustificandola come debolezza umana, ma il problema sta in tutte le legnate contro tutte le debolezze umane durante tutti questi anni per guadagnare voti. Matteo Salvini, quello che contro la droga ha sempre usato parole di fuoco per mettere consenso, chiedere eventualmente alla famiglia Cucchi, improvvisamente cambia atteggiamento. E ieri si dice novella madre Teresa di Calcutta pronto ad aiutare l'amico. È il sovranismo dei delitti e delle pene. Cioè lo stesso atteggiamento, staremo a vedere se è anche un reato, viene pesato in base alla vicinanza affettiva o alle convergenze sentimentali e politiche. Essere razzisti, perfino nella pratica della solidarietà, se ci pensate, è un capolavoro, davvero. Parte il garantismo peloso. Non facciamo con Morisi quello che lui faceva con gli altri, dicono tutti, e lo fanno strumentalmente. Per non colpire la Lega e Salvini, si vede subito, da lontano. Cioè gli altri, gli altri tossicodipendenti a cui vorrebbero accostare Morisi, non hanno mai guidato una task force alviminale. Non erano nella segreteria di un partito. Non decidevano la linea politica del leader del maggior partito del paese. Non scorgere la differenza è immorale. Non capire che un'indagine del genere su una persona come Morisi è un fatto politico e strumentale. E così, in nome del Noi siamo diversi da loro, si assiste a un'infame parabola che passa per una soluzione, in questo caso, del Tribunale del Popolo. Anche la Lega, ormai se ci pensate, è regina del motto Sono compagni che sbagliano. E addirittura l'esaltazione del Morisi stesso. E quale sarebbe la grande attitudine di Morisi? Essere incappato in un atteggiamento che ha demonizzato per anni e che ha aumentato il consenso banchettando sui disperati. Dove stia la virtù in tutto questo, sinceramente, è davvero difficile da capire. E addirittura qualcuno, alcuni commentatori, ieri si sono stracciati le vesti per il Salvini umanitario. In effetti, ha ragione Salvini. Cioè, ha ragione, la dipendenza è una debolezza. Farla diventare un reato non aiuta a combatterla, come invece fa allungare la mano, comprenderlo, smetterla con questa manfrina del buttare via la chiave. In sostanza, ieri, il leader della Lega, con la sua dichiarazione, ha confessato di essere un politico di merda. Ma i garantisti disfunzionali sono così. Cioè, usano consapevolmente la presunzione di innocenza per rivendicare il dovere di sospendere ogni giudizio, anche morale, su atteggiamenti e su inopportunità, come nel caso di Morisi, che non hanno bisogno di indagini, non hanno bisogno di ulteriori prove. Cioè, sono talmente garantisti che garantiscono ogni volta il salvataggio, nell'opinione pubblica, dell'amico degli amici. Sono talmente garantisti che pretenderebbero di vietare ogni valutazione negativa sugli amici dei loro amici. Per loro, i gradi di giudizio sono sovrapposti ai gradi di parentela. E così siamo finiti dal prima gli italiani, ci siamo talmente infiltriti e ristretti finendo al prima i Morisi. Che pena. Buon martedì.